Ma cos'è questa cosa che ogni volta che sono in ufficio mi comincio a puzzare di merda? Spiegami questa cosa che quando vai a cagare tu mi comincio a puzzare io. Ma cos'è questa storia che sei tu a casa che cacchi e puzzo io? Cioè non riesco proprio a capire. Io capisco siamo legati, non se ti metterà forte. Va bene Jung, va bene la simbiosi, va bene l'inconscio collettivo, tutto quanto così. Ma se caghi tu e puzzo io, qua si va oltre. Andiamo a farci vedere. In ufficio ogni volta devo uscire scusandomi per troppo odore di merda. Non ne posso più. Dove è? No, no, non so sì. Mandano io un messaggio. Mi dice sto andando a cagare, mi mando un messaggio. Ma io tipo scusate, vado a chiudermi in bagno anch'io e simulo anch'io di defeccare. Perché se no... Beh, non cominciamo a usare il dissentel la mattina. Beh, non capisco questa roba. Potrei riparare, che ne so, quel dissentel. Ci mettiamo alla foglia. Cioè mandi un messaggio quando sei per andare in bagno. E dire, oh sto andando. Io esco dall'ufficio. Mi nascondo che ne sono un pozzo. Un, due, tre, caldo io e pulsi te. 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 Poi non è che sia proprio bellissimo puzzare di merda. Anche sui mezzi pubblici. È ovunque. Questa è veramente terrificante questa nostra vita. Io ti amo anche. Però se continui a cagare io continuo a puzzare di merda questa cosa non va assolutamente bene. Dobbiamo trovare la nostra soluzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti giuro basta. Il punto è che anche se tu te ne andrai via per sempre da me, io ti vorrò puzzare di merda, te ne rendi conto? Quando avrò due figli, quando avrò cena dei miei, quando usci da Romagna, ti vorrò puzzare di merda. La tua paura è tua. Io non ne posso più. Come faccio? Grazie a tutti.